Un lato dei pannelli riporta il volto della persona colpita dalla sclerosi multipla, l'altro lato gli effetti della malattia così come concepiti dall'intelligenza artificiale. Questa mostra nasce per far capire alle persone i sintomi invisibili, perché la sclerosi multipla non è solo la sedia a rotelle, ci sono tantissimi altri sintomi invisibili che le persone non riescono a comprendere. Nella sua esperienza personale come ha saputo che ne soffriva? Allora io ho avuto 27 anni fa, è stato un po' problema, ci hanno piegato un anno a capire, perché è molto varia questa patologia e dopo grazie a Dio alla fine con la risonanza magnetica hanno visto che avevo delle placche che corrispondevano alla sclerosi multipla. Una mostra foriera di molte riflessioni, quella visitabile fino al primo weekend di giugno sotto i portici di Palazzo Estense, perché alla componente concettualmente brutale aggiunge un tocco decisamente irrituale, che fa del corpo una galassia indebolita ma ancora energica, fiaccata ma orgogliosamente variopinta, quasi sfrontata nella volontà di reagire, lottare, guardare fisso negli occhi il mostro, senza paura delle fiamme e con un alleato che si chiama consapevolezza, da condividere con tutti coloro che non credono solo a ciò che vedono.